Ora tocca a Neymar Grandissimo rigore e c'è il gol E' uno specialista dei rigori, si vede I pensieri, i turbamenti, forse anche la paura Ha calciato troppo a centrale, sperando che il portiere si buttasse da una parte Palo e c'è la rete Eh, quindi è andata proprio bene Si avvicina al dischetto, grandissima responsabilità Rete Gol, un rigore perfetto Ha interrotto la rincorsa appena prima del calcio, ha ingannato il portiere Ha interrotto la rincorsa per bilanciare il portiere Non è bastato Non può sbagliare qui Deve mantenere i nervi saldi E c'è la parata, che lavoroso Grande tecnica, grande fortuna e grande qualità Tutta la pressione è su di lui, se sbaglia è finita E c'è la rete, perfetta esecuzione Anche se è una trasformazione al limite del regolamento Ma per l'arbitro va tutto bene Momento fondamentale, cruciale della gara Enorme tensione Ha tirato dritto fra le braccia del portiere Va a sistemare il pallone, ovviamente è un momento chiave Grande pressione su di lui E c'è il gol E l'aveva sfiorata E l'aveva quasi presa Ma spinta in più E ci è arrivato Troppo alto Tirato malissimo Eh ma che esagerato È un momento di clamorosa tensione Si è offerto volontario ma la tensione gli slegge in volto Non staglia È fatta Regala la vittoria della tua squadra Grande calma, grande freddezza Ha calciato bene Ora esplode in tutta la sua gioia La regia ci ripropone il gol Da un'altra angolazione Grazie a tutti Fellaini È un momento di clamorosa tensione Si è offerto volontario ma la tensione gli slegge in volto Non sbaglia È fatta Regala la vittoria della tua squadra Grande calma, grande freddezza Ha calciato bene Ora esplode in tutta la sua gioia